buongiorno amici di academy il libro che vi presento oggi si chiama la resistenza delle donne di benedetta tobagi ed è vincitore del premio campiello questo libro è stato dedicato dall'autrice alle antenate che sono sia le donne partigiane sia tutte quelle donne che hanno contribuito a raccontare la resistenza femminile a portare alla luce un fenomeno che per tanti decenni è stato fuscato relegato fenomeno generico in realtà le donne hanno avuto una parte importantissima nella resistenza e ne hanno pagato un prezzo altissimo un aspetto che mi è molto piaciuto di questo libro sono le fotografie perché proprio l'ossatura del libro si basa su 145 fotografie molto belle che sono tratte dagli archivi storici della resistenza e che si intrecciano con il testo sono come delle finestre che si spalancano al lettore che fanno entrare questi straordinari personaggi che poi sono donne comuni sono donne che con la resistenza hanno anche sperimentato una libertà di azione di movimento di pensiero che prima non avevano pensate che la società prima della guerra ma anche purtroppo nel dopoguerra era una società molto patriarcale la donna non contava nulla non aveva diritti era vista come un essere fragile morale inoffensiva e questo è stato anche un aspetto molto importante per le donne nella resistenza perché rispetto agli uomini si potevano muovere potevano passare in dendi posti di blocco non venivano guardate con sospetto le donne hanno saputo utilizzare a loro vantaggio quegli stereotipi che gli uomini hanno creato per loro quindi della buona mamma dell'angelo del focolare della fan fatal e si sono staccate da queste da questi ruoli imposti e li hanno utilizzati come maschere proprio per farcela in situazioni di pericolo ci sono dei passi molto carini del libro proprio che che descrivono questa capacità delle donne di fare quasi le attrici capocomiche della loro commedia e di appunto riuscire a deludere la sorveglianza o i posti di blocco proprio giocando ruoli che gli uomini avevano disegnato per loro improvvisano sceneggiate magistrali se vengono fermate tremano di paura piangono giurano di non sapere proprio nulla allora il tedesco le scarica dal camion l'angelo pre raffaellita passa i posti di blocco sgranando gli occhioni l'immagine stessa del candore la fatalona riesce perfino a scolcare un passaggio dei repubblichini la vecchia operaia la fa franca zoppicando perché il soldato ricorda tanto la mamma e con questa vulnerabilità delle donne gioca a loro favore ma diventa anche un'arma doppio taglio infatti c'è una sezione del libro dedicata proprio a tutte le torture e alle ai sopruse le violenze che erano i danni delle donne proprio quando venivano catturate e soprattutto lo stupro che era usato ed è purtroppo ancora così usato come arma contro le donne e oltretutto le donne che hanno subito questo tipo di violenza non hanno neanche potuto raccontare ai loro mariti o comunque sfogarsi con qualcuno perché di fronte a certe tragedie c'era una sorta di pudore e si doveva nascondere tutto non se ne doveva più parlare quindi questo è un'ulteriore violenza che hanno dovuto subire queste donne dopo appunto la guerra dopo la resistenza un altro passo che mi ha molto colpito è il fatto che queste donne che hanno sperimentato la libertà dopo la guerra purtroppo si sono trovate in tanti casi avere a che fare con mariti che invece non le trattavano male non le davano non davano il loro giusto spazio e quindi molte volte queste donne hanno pensato ecco se fossi morta sarebbe stato meglio se fosse finita morta come le mie compagne non avrei tradito determinati ideali questo mi ha molto mi ha molto colpito questa drammaticità appunto della donna che nonostante tutto cosa avesse sopportato alla fine quasi sperava di essere morta e quindi vi consiglio questo libro che veramente un viaggio e porta alla luce un aspetto che purtroppo è sempre stato un po fuscato non ha mai avuto il giusto risalto e con questo bel libro appunto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video